Certo, noi proponiamo questo servizio HS24 perché siamo talmente sicuri dei nostri risultati che tutte le donne che hanno provato l'ITES sparisce la pelle a buccia d'arancia e quindi diminuisce la cellulite ed è veramente ciò che cerchiamo con l'ITES di dimagrire. Ecco qui le nostre modelle. Queste modelle sono molto interessanti, hanno una morfologia diversa e questo prodotto si adatta a qualsiasi morfologia. Vedete che qui la pancetta è sparita, i cuscinetti sono spariti, non c'è bisogno di portare reggiseni scomodi. Infatti a volte volendo si può anche portare senza reggiseno, è molto comodo. Vedi, questo vi permette di modellare i glutei, di rialzare i glutei e quindi averli più sodi e sappiamo che è importante questo per le donne perché è molto modellante come prodotto. Ecco qui abbiamo un'altra modella. Allora, la modella porta questo abito. E' molto bella. Eccola qua la nostra abito. Che è un abito senza altro. Vedremo subito quanto riesce a perdere. Ok, nel frattempo io voglio ricordarvi appunto che c'è un'offerta speciale. Come vedete è uno sconto di 10 euro. Approfittatene subito perché questo è il vostro migliore amico. Abbiamo anche l'apertura sottostante quindi è molto comodo. E guardate la vestibilità sulle nostre due modelle che appunto hanno una morfologia, una taglia completamente diversa. Vi ricordo che questo body va bene sia per una taglia S che per una taglia tripla XL. Quindi andiamo a coprire tutte le esigenze di tutte le donne. C'è esattamente questo. Certo. Il abbandonato dei textili dell'ITES del busto. Quindi qualsiasi sia la modella, chiunque sia la modella, qualsiasi sia il tipo fisico, possiamo adattare il prodotto. E' tornata nel frattempo Daniela. Allora... Allora...